Trovate la voce appunto di un interessamento della premia Libia indiana, dei concorsi di Presco che potrebbero andare a giocare con il Carnavalo, ne avete parlato dato che anche lei ha chiuso la carriera giocando all'estero? No, non ne abbiamo parlato onestamente, non so fino a che punto ci sia concreta questa cosa, quindi aspetto che mi venga comunicato qualcosa in questo senso e poi adesso anche gli indiani non lo manca.